oggi alberi di natale di pasta sfoglia perché sono semplicemente spalmate della crema di nocciole su un rotolo di pasta sfoglia tagliate delle striscioline di circa un centimetro e formate degli alberelli di natale con l'aiuto di uno stecchino infine cuocete in forno per 15 minuti e decorate con tantissimo zucchero a velo per renderli super sexy